Un saluto a tutti gli amici di Radio Onda Novara TV per questa prima intervista del Novara Summer Music seconda giornata, 32 gradi, un sole che spacca le pietre e abbiamo qui con noi Ursa Major accaldatissimo, ciao! Ciao, ciao, piacere, buonasera a tutti, sono bassista di Ursa Major, suoneremo stasera alle 10 veniteci a sentire, zona Lea vicino alla fontana, dietro 049 per intenderci Praticamente hai fatto tutto tu, quindi bravissimo anche al microfono Prima di tutto, come ti chiami? Sono Fabrizio Bassista di questo gruppo, purtroppo mancano gli altri che sono dispersi in giro a raccattare i pezzi per suonare stasera e niente, il nostro repertorio è rock italiano, anni 60-70, riallaborate un po' da noi in maniera un po' più, diciamo, energica, rock, moderna, chiamiamo così e speriamo vi piacciono, sono pezzi un po' strani, diciamo, non proprio della produzione più commerciale italiana, quindi, non so, Formula 3, PFM, Battisti, eccetera, eccetera e riallaborati, quindi suonati con la classica formazione batteria, basso e chitarra senza tastiere quindi logicamente più sull'hard rock, insomma Un target quindi classico per questa band, in quanti siete? In cinque? Voce, basso, batteria e chitarra Io mi devo la chitarra, Giuseppe alla voce, Giancarlo alla batteria e io al basso che in teoria sarei un chitarrista, però sono, diciamo, come chi giocava in porta, no? Prestato al basso in questo caso In che postazioni siete? Che forse non l'hai ricordato velocemente, giusto per farvi pubblicità Numero 5, se non ricordo male, sì, numero 5, lì dove c'è la fontana, all'inizio dell'allea diciamo, Piazza dei Martiri, dietro al 049 Plaza, eccetera, eccetera Io vorrei ricordare con te, visto che anche... Sì, 10 e mezza, secondo turno Assolutamente, quindi 10 e mezza Io vorrei ricordare con te, visto che ci siamo, anche, è un'occasione per farsi un po' di pubblicità magari qualche collegamento ai social network, un sito internet ufficiale Abbiamo una pagina Facebook che non è ricchissima, però c'è qualche video, c'è qualche foto di qualche serata che abbiamo fatto in giro non suoniamo tanto, perché purtroppo il genere è un po' quello lì, insomma adesso vanno più altre cose, diciamo però qualche data l'abbiamo fatta e comunque è importante divertirsi sperando che la gente comunque si diverta insomma, soprattutto magari ricordi del passato Un genere un po' diverso da quello che stiamo sentendo qui al Novara Summer Music ma è bello così, perché è bello che in 40 gruppi che si esibiscono in questo festival ci siano anche un po' delle occasioni di sentire musica un po' alternativa Io ringrazio gli Ursa Maior di essere stati ai nostri microfoni, alle nostre telecamere Grazie a voi e passate, perché stasera c'è da divertirsi, che sarà una bella botta di volume Assolutamente, li salutiamo ancora tra pochissimo con le altre interviste e qui sempre dal Novara Summer Music Grazie a voi